A voi tutti ben ritrovati su Meteo Giuliaci, un cordiale saluto da Giuseppe De Vitis. La giornata di mercoledì è ancora instabile, ancora instabilità sulle regioni meridionali con rovesci di piogge temporali, ma attenzione, si accenderà l'instabilità nelle ore centrali della giornata lungo la dorsale appenninica, con sconfinamenti anche su zone tirreniche come in Campania, sulla Calabria. In Calabria avremo dei rovesci di pioggia anche sulla Toscana, sul nord Italia invece situazione particolare, perché avremo molte nuvole al mattino, poi avanzeranno velocemente, al primo mattino dicevamo molte nuvole, poi avanzeranno delle aperture del cielo sul nord-est, mentre sul nord-ovest e in parte sull'Emilia Romagna avremo nuvolosità che tenderà ad addensarsi, quindi avremo ancora dei rovesci di pioggia sparsi. Dovesci di pioggia sparsi e delle nevicate sull'arco alpino oltre 1500 metri. Comunque nella seconda parte della giornata ci sarà un generale miglioramento anche sulle regioni settentrionali. Cari amici ho concluso, io vi auguro di trascorrere una buona giornata.